Non essendo egli che intelletto, Marco Aurelio, 121-180 d.C., imperatore, filosofo e scrittore romano, in pensieri dice Dio vede le anime nude dalle loro spoglie materiali e dalla spessa crosta d'impurità che le ricopre, poiché, non essendo egli che intelletto, non ha contatto che con gli intelletti emanati o derivati da lui. Se anche tu ti abitui a fare lo stesso, ti libererai da mille cose che ti inquietano. Colui che non cura la massa di carne che lo avviluppa, non perderà il tempo a curarsi delle vesti, della casa, della fama, di tutte le apparenze di questo genere. Commento Per i maestri immateriali Dio non è intelletto, cioè mente, ma coscienza. Perciò chi non perde tempo a curarsi delle vesti, della casa, della fama e di tutte le apparenze di questo genere, vive più di coscienza che di mente. Grazie. 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 Grazie a tutti